Che cos'è il Pescara Beach Race? Una gara importantissima, vedrà più di 100 atleti da tutta Italia confrontarsi in questa quarta tappa del campionato italiano, quindi non vediamo l'ora di farci sotto domani. La prima giornata importantissima è la sprint, quindi 250 metri lineari, saremo all'interno del porto turistico insieme all'evento del Sottocosta. La seconda giornata ci sposteremo di fronte alla Lega Navale con la long distance, quindi 10 km per gli atleti un po' più agonisti e 4 km per i più piccini. Com'è nata l'iniziativa e l'idea di gareggiare a Pescara? Noi abbiamo questa scuola di SAP, promuoviamo lo stand-up paddle in tutto il territorio nazionale, per il secondo anno facciamo parte del circuito italiano SAP Race, targato FIC della Federazione Italiana Cano e Kayak. Vogliamo portare il SAP sia a livello di promozione per vedere il territorio da un'altra prospettiva, ma noi lo usiamo anche a livello agonistico con allenamenti gare. Sì, due giorni fa abbiamo dato il via alla partenza del Giro d'Italia e oggi siamo qui per presentare un altro grande evento sportivo, Pescara Beach Race. Come appena detto, per il secondo anno consecutivo il capoluogo adriatico ospita un grande evento di SAP. Ricordo benissimo l'anno scorso che è stato l'evento con il maggior numero di partecipanti, 130 imbarcazioni, di cui 50 under 18. Quindi quest'anno dovremo assolutamente dare continuità a questo grandissimo evento. Sono ottimista, penso proprio di sì, il Mondiale Pescara ce l'avrà e noi naturalmente daremo il nostro massimo supporto.